Marguerite Dioras Marguerite Dioras è una delle scrittrici più importanti del Novecento ed è sicuramente uno degli incontri fondamentali della mia vita. Credo di essere diventata una scrittrice proprio perché l'ho incontrata molto presto, intorno ai 15-16 anni. E perché appunto incontrandola ho trovato una donna che scriveva, una donna che scriveva pur non venendo da una famiglia di letterati, di intellettuali, anzi la famiglia di Marguerite Dioras era molto modesta, anche povera, la madre di Dioras non aveva alcun interesse nei confronti della scrittura, semmai le diceva devi studiare matematica e trovarti un lavoro. E poi Dioras era in qualche modo straniera nel suo paese, che ha un sentimento che io per esempio ho provato dai migranti di prima generazione. Lei era nata nelle colonie francesi ed è vissuta lì fino ai 18 anni, è nata a Jaden nel 1914, quindi in quella che era allora l'Indocina. E poi sì, è andata a 18 anni a vivere nella madrepatria, però sostanzialmente aveva vissuto tutta l'infanzia e l'adolescenza in qualche modo come una selvaggia, giocando a piedi nudi nella foresta, facendo il bagno nel fiume, aveva parlato la lingua vietnamita fino a 18 anni e credo tra l'altro che questo abbia influenzato la sua scrittura, nel senso che probabilmente questo ha in qualche modo influenzato il modo in cui lei scardina, reinventa la lingua francese nella sua opera. La storia del Novecento attraversa la vita di Marietto Ras e la sua opera, perché nella sua opera lei la restituisce. Penso per esempio al colonialismo, che è raccontato per esempio in Una dica sul Pacifico, un romanzo nel 1950, con cui lei si fiorò al Goncourt, che poi avrebbe vinto con L'Amante, che è invece un romanzo del 1984. La storia dell'amante è dichiaratamente autobiografica, ma in Una dica sul Pacifico le raccontava più o meno la stessa condizione, la stessa esperienza, però trasfigurandola in personaggi inventati. Il perno di queste storie familiari, sono delle storie familiari, è questa madre che è una figura quasi mitologica, epica, che è la figura di una donna che ha ricevuto un'ingiustizia. Infatti il modo in cui Marietto Ras racconta il colonialismo è da un lato appunto perché mostra la miseria, la lotta per la sopravvivenza e anche proprio lo sfruttamento degli indigeni da parte della potenza coloniale, ma anche appunto racconta come i coloni stessi sono ingannati, traditi dai funzionari bianchi. Questa donna ha usato tutti i suoi risparmi per comprare una terra, di cui pensava di poter coltivare il riso, e che invece è una terra non coltivabile, perché viene inondata dalle maree regolarmente. Quindi questo aver sprecato tutti i suoi risparmi per un progetto che è un progetto assolutamente fallimentare, che la manda in rovina, la porta lentamente verso la follia. E quindi c'è il racconto della corruzione della potenza coloniale dei funzionari delle colonie bianchi attraverso la storia di una famiglia, così come c'è il racconto dei rapporti di potere. Nell'amante, la ragazzina quindicenne che ha una relazione con il ricco cinese, sta in qualche modo scoprendo qualcosa anche rispetto ai rapporti di potere, perché da un lato lui è ricco e lei desidera i suoi soldi, e lei invece è povera e lei ha bisogno dei suoi soldi, e quindi gerarchicamente lui ha più potere di lei perché appartiene a una classe sociale più elevata, però lui è cinese e lei è bianca. E quindi lei fa parte dell'etnia che è considerata quel tempo superiore. Jonas ha raccontato anche la seconda guerra mondiale, per esempio in un libro bellissimo che si chiama Il dolore, specialmente io amo in particolar modo il primo racconto, che è la storia di una donna il cui marito è stato deportato in un campo di concentramento, e lei attende di sapere che fine ha fatto, che sorte gli è toccata nella disperazione, nell'angoscia, e a un certo punto lui torna, torna, è sopravvissuto al campo di concentramento ed è straziato nel corpo e nella psiche, da questa esperienza, e questa donna cerca di rimetterlo al mondo, lo aiuta, lo nutre, lo cura, finché appunto lui non ritorna alla vita, anche se sa che vuole lasciarlo perché è già innamorata di un'altra, ha già una relazione con un altro. Quella donna è Marguerite Duras e quell'uomo è Robert Antelme, che è stato suo marito, è stato riportato a Dakao, che come lei faceva parte di una cellula delle resistenze, che si riuniva a Rue Saint-Benoît, quella via dove avevano casa Antelme e Duras, e cellula di cui faceva parte anche François Mitterrand. La seconda guerra mondiale è stata raccontata anche in Hiroshima Monamour, il film di Alain René che Marguerite Duras ha scritto come sceneggiatrice, e in questo film c'è la notte di amore, di passione fra una donna francese e un uomo giapponese, e in questa intimità estemporanea con quest'uomo, lei non può non rievocare la tragedia della seconda guerra mondiale, anche se sono passati anni da allora, e ricordare che durante la seconda guerra mondiale lei si era innamorata di un tedesco che poi era morto, quindi aveva dovuto vivere non solo il dolore della perdita, del lutto, ma anche il dolore di essere biasimata, di essere odiata, stigmatizzata dalla comunità, e rapata a zero come punizione, come marchio, come dimostrazione del fatto che lei era stata una traditrice perché si era innamorata del nemico. E alle scene d'amore fra quest'uomo e questa donna si sovrappongono in dissolvenza le immagini delle macerie di Hiroshima. Questo film è stato molto criticato, ci sono state molte polemiche, perché questa sovrapposizione è sembrata in qualche modo iconoclasta, blasfeme, rispettosa, invece è esattamente la cifra di Marguerite Duras, perché per Marguerite Duras non c'è una gerarchia fra la storia con la S maiuscola e l'amore. La storia è esattamente la somma delle singole esistenze, delle relazioni fra le persone, dei nostri sogni, delle nostre passioni, dei nostri dolori, delle nostre sofferenze, delle nostre contraddizioni. La storia è scandalosa, come in Elsa Morante, perché schiaccia le singole esistenze, perché le tradisce. Questo credo sia stato per me l'insegnamento più grande ricevuto da Marguerite Duras, e cioè il racconto del mondo, anche del proprio tempo, anche di un altro tempo, però il racconto dei rapporti di potere, dei rapporti fra classi e sociale, il racconto del rapporto fra individuo e collettività, fra individuo e sistema, in cui l'individuo è in qualche modo compreso, però sempre attraverso il racconto dell'individuo, del singolo, della sua irripetibilità, delle relazioni che stringe con altri. Marguerite Duras è stata una scrittrice spesso fraintesa, attravisata, considerata una scrittrice femminile. Io detesto questo termine nel momento in cui diventa una sottocategoria dell'universale, come se le femmine e le donne non appartenessero all'universale, tanto quanto tutti gli altri esseri umani, o come se diventasse appunto una sottocategoria della scrittura, come a dire, scrittura di serie B. È stata considerata una scrittrice che parlava d'amore, perché spesso ci sono storie d'amore, di passione e anche di erotismo nei suoi romanzi, nei suoi testi teatrali, nei suoi film. E invece io credo semplicemente che Marguerite Duras abbia raccontato il desiderio perché per lei il desiderio è ciò che distingue l'umano dal non umano. Il desiderio in Duras è una rivendicazione di esistenza, è una forma di affrancamento, di emancipazione, di libertà, di ribellione, il desiderio è un gesto politico in Marguerite Duras. E quindi, insomma, lei aveva come obiettivo da scrittrice di indagare l'essere umano in tutta la sua complessità, di raccontarne anche la parte più scura, anche più repellente, mi viene da dire, spaventosa, inquietante, incomprensibile, razionale, contraddittoria, ambivalente, raccontarla senza giudizio, senza ideologia, siccome esiste, va raccontata, perché questo significa indagare l'essere umano. e ha raccontato questo anelito inesausto degli esseri umani di incontro con l'altro, di relazione con l'altro, anche se questa relazione fino in fondo è impossibile, anche se in qualche modo la cesura fra gli esseri umani è tale che ognuno vive da solo, soffre da solo. Appunto, il dolore collettivo in fondo è una forma di illusione, l'unica forma di dolore è quella individuale. iscriviti al nostro canale